Ciao, martedì 12 ottobre 2021 partirà un nuovo progetto nel quale tu sarai protagonista. Basterà abbonarti ad uno dei miei canali, rubrica Dialobi di Claudia Marcelli e o Blue Voice Live, qualora ti interessassero entrambi, per poter partecipare all'incontri Siamo Uno. Si tratta di riunioni che si terranno tutti i martedì dalle ore 21 alle ore 22 sulla piattaforma Zoom e per scaricarla gratuitamente ci vorranno veramente pochi secondi e che si incentreranno sulla conoscenza di noi stessi, sul desiderio di migliorare noi e le nostre esperienze di vita e trovare anche una comunità con la quale poter condividere pensieri, riflessioni, ragionamenti e perché no, anche scambiare qualche consiglio. Cosa aspetti? Ci vediamo martedì!